adesso vi spiegherò i titoli di coda di slide 3 anche se ventri non parla dimitri lusto è riuscito a diventare un subacqueo famoso ora è pieno di donne e di denaro mi ha spedito una cartolina una volta su cui c'era scritto sono qui spero che tu stia bene come me è fatto così panda king è tornato in cina per stare vicino alla sua adorata figlia jim king la quale molto felice che passi al vaglio tutti i suoi futuri spasimanti tanto è vero che non è ancora riuscita a sposarsi lo sciamano è tornato in australia e si è scelto qualche nuovo apprendista uno di questi era un membro di un famoso gruppo rock e sfortunatamente ha attirato l'attenzione dei media dalle ultime notizie so che si nasconda a new york pensava che fosse l'ultimo posto dove lo avrebbero cercato bene ragazzi speriamo che mia che mi avete ascoltato con attenzione vi ho detto i titoli di coda di sly 3 anche se venti non parlava allora questo è il binocom di bentley dobbiamo vedere cosa c'è in quella casa io lo dico subito cosa c'è c'è sly cooper innamorato pazzo di carmelita fox un ladro che si innamora di una poliziotta ma come è possibile bene ora sly cooper ci vede e ci fa l'occhiolino che demonio